Bentornati su CuperTV, martedì 29 gennaio 2019. Oggi abbiamo un VOD abbastanza complicato. Saranno 3 minuti ARRAP con 24 box jump overs, 24 16 calories di bike e max effort di thrusters. 3 minuti di riposo, poi di nuovo 3 minuti con 21 box jump over, 21 o 14 calorie bike e di nuovo max thrusters. 3 minuti di riposo e ancora un ARRAP 3 minuti con 18 box jump overs, 18 oppure 12 calorie di bike e max thrusters di nuovo. 3 minuti di riposo e per concludere un'altra volta un ARRAP di 3 minuti con 15 box jump overs, 15 oppure 10 calorie bike e max effort thrusters. È tutto per il VOD di oggi, pesi e carichi sulla grafica. Ci vediamo domani per un'altra classe di CuperTV. Buona giornata!